Siamo a settembre siamo nella parte finale della stagione quella importante e siamo alla coppa agostini lissone lissone tappa molto molto dura speriamo di fare bene in questa coppa sinceramente la forma sta migliorando gli obiettivi spero nelle top 5 staremo a vedere però non posso permettermi di sbagliare niente a questo livello di difficoltà Fioi con difficile è veramente veramente dura con un poi con un ciclista così scarso perché abbiamo ancora parametri veramente ancora problemi ho tentato in tutti i modi di stare col gruppo ma a fatica sta qua Fioi a fatica sta qua adesso riprovo ancora a ritornare su ma Fioi il kumen non c'è purtroppo per recuperare devo spingere e questo proprio non va bene chiaramente l'ho già fatto due volte sta cosa quello è il piccolo problema che l'ho già fatta due volte c'è ancora chiaramente non ho potuto fare nessun tipo di scatto e ormai i primi sono in vantaggio non c'è niente da fare vediamo adesso una cosa da fare è questa però proprio non capisco il kumen proprio nelle due salite nella salita questa e questa mi ha proprio crollato signori non si può dire altro se vediamo cosa posso inventarmi ma in volata non vincerò mai abbiamo in realtà ok e due perfetto eh ma questi sono un po' davanti ma ce la possiamo fare ce la possiamo fare che in volata non abbiamo un caso dobbiamo aspettare un momento buono forse ho usato il gel troppo presto non lo so no no aspettiamo un attimo per me manca poco dai devo assolutamente anticipare se voglio vincere dai il kumen ci prova il kumen ci prova prima ma un'impresa abbastanza disperata purtroppo è un'impresa abbastanza disperata ho perso tanta energia nelle due scalate non capisco il perché eh il kumen non ce la può fare il kumen non ce la può fare lo sa il kumen non ce la può fare lo sa è crollato peccato 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 avevo un'altra alternativa dovevo provare prima avevo anche un più due ma in montagna non si è ancora simone yast ma non si è visto purtroppo non si è visto questo più due è proprio per niente un kumen veramente affaticato e ho perso qua qua e qua ragazzi eh eh signori questo è il ciclismo purtroppo vediamo come arriviamo in classifica e andiamo a vedere la vuelta com'è finita anche se sono curioso non penso di aver fatto errori clamorosi però boh eh ho dovuto sempre addirittura sono finito nel gruppo dopo il peloton ho perso 50 secondi dal peloton e per recuperarli ho perso cioè non vi volevo scattare prima ma proprio mi è crollato è rimasto impiantato in salita proprio va bene vediamo come arriviamo c'erano bei ciclisti però eh venuti nei primi venti spero quattordicesimo vai quattordicesimo posto un po' curioso risultati vedi archivi dovrebbe essere no la vuelta va a vincere Alberto Contador vince Contador ragazzi ah benato il mio Benat eccolo qua il mio Benat grande Benat quindi fanno vinto Nibali Giro la vuelta Contador e il tour Chris Fromm eccoli qua possiamo dire così facciamo anche prima Liegi Vastò Liegi Valverde per il Girobe Vanmark la plant bar Dagenkold e non saremo Christophe ok buono 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 va bene ragazzi andiamo al prossimo al prossimo prossima gara programma abbiamo abbiamo che cosa abbiamo come non sei l'incoglionetto abbiamo la Coppa Bernocchi che ha questa mappatura vabbè è molto simile l'altra però vedi per esempio l'altro anno no il 2013 ha vinto Sasha Modulo sono proprio scandali in queste in queste in queste ok ragazzi siamo a 15 km dall'arrivo e siamo con un più 3 di forno quindi non male sulla carta e adesso inizia l'ultima salita adesso Fio dobbiamo capire dobbiamo capire perché abbiamo visto nelle ultime gare che partire tardi non ha dato nessun positività proprio lasciatemi il termine un po' curioso ormai abbiamo recuperato il gruppo che ha 6 minuti nella fuga della mattina e il kume sgambetta e il kume ci prova e il kume ci prova e il kume se ne va il kume prova la salita della vita Fioio il kume ha bisogno di un buon piazzamento signore ha bisogno di un buon piazzamento il kume il kume ha bisogno di un buon piazzamento si prende 17 secondi dal primo vediamo un po' cosa combina il kume vediamo un po' cosa ci combina il kume ragazzi vale anche di gare energetico il kume deve dare tutto signori il kume deve dare tutto adesso il kume deve dare tutto 36 secondi di vantaggio sono pochini e stanno recuperando bene stanno recuperando bene purtroppo stanno recuperando bene il kume deve fermarsi e stanno recuperando stanno recuperando stanno recuperando signori purtroppo il mio scatto non è stato positivo adesso però c'è la discesa adesso però abbiamo la discesa eccolo qua arrivato sono arrivati in 4 sono arrivati in 4 sono arrivati in 4 adesso vediamo in discesa cosa riusciamo a fare siamo in 4 abbiamo 30 secondi dal gruppo 2 non molti per la verità e niente e se ne stanno anche andando qua ho sbagliato io signori qua ho sbagliato io porca trota niente il kume non riesce a stare il passo non c'è niente da fare il kume non riesce a stare il passo e stanno arrivando anche altri ma porca niente da fare niente da fare disastro puro signori disastro puro non me ne sta andando bene una ragazzi con un più 3 così male però niente niente vediamo se scopriamo a tenere la stare tra i primi 10 che poi anche 3 5 la vedo dura anche tra i primi 10 forse di poco forse di poco ha vinto ottavo posto sto piazzando però ragazzi guarda che gente albasini però schlek malori davanti a malori insomma mi sembra insomma che c'era veramente un parterre de rois ha vinto moreno moser che anche lui insomma non è proprio scarso dai non dico soddisfatto però va bene dai comunque siamo tra i primi 10 questo è importante però è chiaro che volevo l'acuto sono sincero volevo l'acuto comendiano l'ho partito anche bene però mi sono crollato subito ho dato 69 in collina pian pianino non devo aver fretta se la gente è comunque forte eh se la gente è forte ok comunque davanti a Francesco Reda che era il titolare buono buono ragazzi adesso abbiamo abbiamo tra due giorni abbiamo il memoria del Marco Pantani quindi siamo proprio in clima la freschezza non è tanta la forma sta un po' salendo dai speriamo di fare qualcosa alla fine adesso abbiamo il memoria del Pantani dopo abbiamo dopo un giorno GP Industria e Commercio di Prato e poi abbiamo Milano Torino Milano Torino giro del Piemonte sarebbe un sogno arrivare tra i primi 10 e finiamo con la Coppa Sabati questa corsa non troppo adatta per il Cume che non arrivo troppo in pianura troppi chilometri di pianura per poter pensare a qualcosa quindi insomma adesso proverò fare una una cumendiata una cumendata vediamo ma la vedo abbastanza improponibile sinceramente è abbastanza improponibile che il Cume possa fare qualcosa però si sa ma io ci provo ovviamente che il Cume ci prova il Cume ci prova il Cume ci prova vediamo se il Cume riesce a fare qualcosa il Cume ci prova veramente stoicamente perché vuole sempre dimostrare comunque di esserci niente niente proprio impensabile 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 va troppo forte il gruppo il gruppo va troppo forte per pensare a qualcosa poi purtroppo in volata il Cume insomma a 55 vabbè gara non proprio per veneziano insomma il Cume ci prova stoicamente bravo come ci prova il Cume prova uno scatto veramente che è abbastanza curioso vediamo come esplode praticamente a 700 metri dal traguardo il nostro Viga dai Viga vediamo cosa combina il Viga peccato però forse come riesce a piazzare 1 2 3 4 5 6 vediamo settimo ottavo settimo guarda mai collano ottavo beh dai dai ci stiamo piazzando fai tanti piazzamenti tanti piazzamenti tra i primi 10 che per carità non è male arrivo sempre in pianura anche un più 2 però con arrivi così è un po' impensabile pensare che come posso fare qualcosa qua veramente c'è la lampre che sta probabilmente sta per Ulissi sicuramente Ulissi ora provo a seguire Ulissi vediamo vediamo questa stava ruota di Ulissi che secondo me è uno dei favoriti per questa gara marchiamo Ulissi vediamo un po' cerchiamo di capire se riusciamo a fare qualcosa più che altro ma vado abbastanza curiosa la cosa lì si ha 81 in volata e c'è un'accelerazione 71 in volata ne abbiamo scherzo siamo tutti qua siamo tutti qua va a rigiare energetico come provo a anticipare tutti vai come provaci sono imbottigliato proprio il come imbottigliato il come imbottigliato 1 e 4 1 e 3 1 e 1 1 e il come prova a fare lo scatto il come ci prova il come ci prova è questo stronzo che sboccio mi ciao vabbè Ulissi con Ulissi con Ulissi chiaramente però venezia attenzione col come attenzione il come cosa va a fare il come non ci voglio credere che vittoria del veneziano che vittoria epica ma si anche se non mi chiamo Valverde ma va benissimo cosa ho tirato fuori signori che sprint del come che sprint del come che vittoria epica che vittoria epica ragazzi mamma mia che vittoria non me l'aspettavo proprio ho beffato Ulissi sono stato a ruota sono partito prima l'ho beffato quanto godo mamma mia che prestazione eh questa vittoria è pesante ragazzi eh eh sì mi sono aggiudicato la corsa grandissimo il come ha spaccato Ulissi signori eh quindi non proprio un coglionazzo eh l'ho azzeccato il come l'ha azzeccato programma e adesso abbiamo queste tre eh Milano Torino però io signori chiuderei con questo e fare il prossimo video alla fine stagione sinceramente perché veramente ho fatto qualcosa di di incredibile non me l'aspettavo proprio una vittoria pesantissima raga ho saluto il come indone veneziano ciao grazie a tutti